Pesaro è pronta ad accogliere la terza edizione di WeNature, l'evento immerso nel verde per parlare di natura ma anche per viverla. Due le novità importanti aumentano gli spazi dell'evento e sono ben quattro le giornate dal 9 al 12 maggio all'insegna della sostenibilità. La cornice unica e splendida di Fiorenzuola di Focara nel cuore verde del parco naturale Monte San Bartolo è la sede ideale dell'esperienza all'aperto come escursioni, laboratori didattici, percorsi in bici e birdwatching. Incontri e talk saranno ospitati nel cuore della città al parco Miralfiore in piazza del popolo. Verranno coinvolte le scuole del territorio per offrire la possibilità agli studenti di seguire da vicino gli appuntamenti. L'evento tratta diverse tematiche da quella ambientale a quella legata alla tutela della biodiversità delle specie animali. Un racconto di fortissima attualità che si intreccia con la natura della cultura di Pesaro 2024 e che unisce patrimonio artistico, ambientale, sostenibilità e tecnologia. Importante è la collaborazione con Swarovski Optic che in occasione del 75esimo anniversario della sua fondazione farà conoscere il primo binocolo al mondo supportato dall'intelligenza artificiale. Un modello in grado di riconoscere più di 9.000 specie di uccelli e mammiferi, uno strumento innovativo che farà vivere un'esperienza unica ed emozionante. Ricco il programma dell'evento si parte giovedì 10 maggio al parco Miralfiore quando gli studenti si immergeranno nel verde. Venerdì in piazza del popolo si parlerà delle sfide del clima e in serata si andrà la scoperta delle luciole lungo il San Bartolo. Sabato 11 e domenica 12 sono le giornate dedicate alle escursioni e ad altre esperienze all'aperto. L'ingresso agli eventi è gratuito, WeNature giunto alla terza edizione regala quattro giornate nel verde ed esperienze uniche.